Buongiorno a tutti i miei amici che non vogliono un tempo, non vogliono organizzare, portare non vogliono comprare un po' di importanza e non vogliono cari. Al final del giorno, se vengono up-to-date come un finanziario, come un entreprenore, lo sai esattamente, o non vogliono parar, se lo che vengono, che è il servizio, che è il prodotto, se vengono, se vengono, se vengono e se vengono operazioni, e sono pregosti un prodotto e aù rengono, e comparare con i riempi riscritti, se vengono aù rengono, se vengono, si vengono rengono, se vengono, se vengono le cose, se vengono, se vengono le investis, se vengono i raggiuntari, non vogliono le negozioni, e questo è un motivo principale per chi come entrepreneur è uscita il mio papiere a questo, per il mio meso e poi per il mio banco, per il mio banco e per il mio banco mettere il mio lente o che è davvero krapa perché non c'è nessuno che non c'è nessuno che non c'è nessuno quindi il mio banco dice ok bisogna capire, è un po' di tempo ma c'è nessuno che c'è nessuno quindi non c'è nessuno e il pago di lente è non solo il risultato ma di un imparare dove dobbiamo ci fare qualcosa se ti dà un altro tempo per perché ci sono e questo è il problema di noi come banco e ci sono molto dove dobbiamo all'imperato e il finanziario adecuato se qui si può riqueza che non si può pagare, ma apporterà perché, se il Gesù ciò può creare un ragazzo e può creare se vuoi crescere anche un banco da crescere. Ok, l'ultima domanda. Chissà voi contestare, però l'ultima domanda è importante per ogni commerciante attualizzare una compagnia in disposizione a ogni momento. Sempre. È importante. Correcto. In verità, l'ultima domanda è stata una compagnia per ogni anno. Per quanto riguarda il nostro lavoro, anche per identificare il risico, perché il risico è più grande. In questo modo, il risico è più grande. Il risico è più grande. Prova non operazione, senza che ora. E se è stato un risico che è necessario.